Martedì mattina gli agenti della sesta sezione della squadra mobile di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via strada comunale pianura Marano, presso l'abitazione di un uomo. All'interno della cantina i poliziotti hanno scoperto una serra per la coltivazione di piante di marijuana, completa di un complesso sistema di aereazione forzata e di illuminazione per accelerare la crescita degli arbusti. I poliziotti hanno sequestrato 56 piante di marijuana ed hanno denunciato il 59enne napoletano per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!